San Pietroburgo, meno 15 gradi, un saluto gelido a tutti. Volevo parlare un po' di Venezuela perché a seconda dei mezzi di informazione che leggiamo troviamo informazioni molto molto diverse. Da un lato c'è il mainstream che demonizza Maduro, dall'altro ci sono anche tanti siti di informazione o personaggi che difendono Maduro a spada tratta e viene quasi divinizzato come paladino del socialismo. Secondo me la verità sta un po' a metà strada. Io non credo che Maduro sia un dittatore. Secondo me effettivamente da quello che leggo c'è comunque una grande parte della popolazione che lo supporta. Il mainstream propone solo le immagini delle proteste contro Maduro ma ci sono anche manifestazioni pro Maduro che vedono tantissime persone specialmente delle fasce più povere della popolazione. Può essere che siano imbevuti di propaganda certamente. Comunque diciamo non vedo nemmeno che Maduro sia così esente da colpe perché se la situazione in Venezuela è quella che i media mainstream ci dicono io non sono riuscito effettivamente a capire la popolazione quanto male sta a seconda di cosa si legge si vedono informazioni molto difficili senza essere là è davvero difficile farci un'idea obiettiva. Però diciamo supponendo che sia effettivamente vero che la popolazione sta male come dicono quasi tutti ecco bisogna fare un confronto secondo me con Cuba perché si può dire che il Venezuela sta così male perché è sotto embargo quindi si dà la colpa agli Stati Uniti e in questo un po' di verità c'è però dicevo guardando Cuba l'embargo non giustifica tutto perché anche Cuba è stata sotto embargo per non so quanti anni, 50 forse un embargo molto stretto, molto duro eppure la popolazione a Cuba non vivevano da ricchi però facevano la loro vita dignitosa e non c'erano tutti questi grandi problemi né di ordine pubblico ma in generale ecco la sensazione è che a Cuba si vivesse comunque molto meglio e Cuba non ha il petrolio non ha tutto il petrolio che il Venezuela ha e che in tutti questi anni vende esporta tantissimo petrolio ha un ingente gettito di dollari in cambio e dove però la popolazione sta molto peggio che non ha Cuba che non aveva questa risorsa quindi qualcosa non torna qualcosa non torna e quello che sembra più probabile è che o Maduro o diciamo qualcuno della cerchia attorno a lui o qualche oligarca diciamo così in qualche maniera si intasca una buona parte di questi soldi e Maduro non vuole, non può, non sa combattere questa, chiamiamolo corruzione comunque questo problema e quindi secondo me in ogni caso è colpevole è responsabile diciamo di questa situazione dovrebbe fare molto meglio e molto probabilmente i cittadini venezuelani farebbero bene a cambiare leader dopo però non si può neanche dire che questo adesso non mi ricordo neanche il nome questo parlamentare, quel capo dell'assemblea nazionale che si è autoproclamato presidente supportato da un bel po' di paesi occidentali ecco sia la soluzione perché prima di tutto non si fa così l'opposizione non si è presentata alle elezioni le ha boicottate e quindi lasciando vincere Maduro perché? perché avevano capito che non sarebbero riusciti a vincere purtroppo per loro sono ancora una minoranza e questa opposizione non è quella schiera di angioletti che viene dipinta dal mainstream perché sono in gran parte fascisti fascisti molto violenti che a confronto i gile gialli sono degli angioletti perché? beh, se si va a leggere e informarsi un po' si trovano un sacco di episodi di violenza alquanto dura l'opposizione ha bruciato vivo un supporter di Chavez, di Maduro un socialista bruciato vivo con la benzina che ha sparso di benzina e poi ha dato fuoco hanno provato a fare la stessa cosa con un giornalista che è riuscito a scappare però prima che appicassero il fuoco hanno sparato a un altro giornalista diciamo questo movimento di opposizione ha al suo interno una grande componente fascista che non tollera il dissenso il fatto poi che anche altri fascisti come Bolsonaro il presidente brasiliano supportino questo concorrente che si è autoproclamato presidente fa un po' pensare se poi si guardano quali sono le componenti della gente che protesta ecco non sembrano essere i più poveri non sembrano essere i più poveri basta confrontare le foto degli anti Maduro dei pro Maduro si vede che i pro Maduro i socialisti diciamo così questa è una cosa un po' razziale razzista mi sembra ma effettivamente è così sono più scuri sono più scuri e quindi probabilmente sono proprio le fasce più povere della popolazione dicevo prima possono essere imbevuti di propaganda è possibile o è anche possibile che per loro effettivamente non si è cambiato nulla da quello che c'era prima magari loro erano poveri prima poveri adesso però adesso si sentono si sentono parte della società e quindi magari supportano Maduro per questo magari non vedono le sue immense responsabilità sulla situazione ecco forse sarebbe il caso magari di fargli aprire gli occhi di cercare di far filtrare un po' di informazione senza però supportare i violenti senza supportare il colpo di stato deve essere la popolazione venezuelana esclusivamente la popolazione venezuelana che fa la sua scelta non dobbiamo secondo me nemmeno imporre elezioni le elezioni ci sono state e aspetta diciamo al popolo venezuelano più gente protesterà e probabilmente Maduro si deciderà a fare un passo indietro se questo succede quindi io sono assolutamente contrario beh come sempre a qualsiasi intervento esterno fa un po' sorridere o piangere secondo dei punti di vista che il presidente Macron supporta gli oppositori quando però noi supportiamo gli oppositori in Francia no questo non si può fare vabbè il solito giochino dei doppi standard e così speriamo che non succeda niente di tragico la Russia ha fatto sapere che si oppone a qualsiasi intervento specialmente militare immagino esterno ma ecco è da vedere quanto potere effettivamente ha in campo va bene il mio consiglio come sempre è cercare di leggere le fonti da più parti c'era per esempio la storia mamma mia questa della signora che è partorito in strada in Venezuela perché non aveva soldi per permettersi di andare in ospedale questa è chiaramente una bufala messa in giro da Repubblica del fatto quotidiano che come al solito traducono, traducono fanno i retweet delle notizie senza verificarle in un paese socialista questo non succede questa signora poi è stata portata all'ospedale persone che partoriscono in strada ce ne sono anche a Londra ci sono articoli anche nella BBC e succede può succedere di partorire per strada non è una questione di mancanza di soldi ecco va bene questo è quanto state attenti leggete, leggete, leggete tutte e due le parti e cercate di decifrare qual è la verità buona giornata ciao